In volo con voi è un salto, è voglia di essere... Coach Cuttini ci si prepara a questo turno preliminare dei play-off, come si sta allenando in questi giorni la QN e come è arrivata questo primo appuntamento? Ci stiamo preparando bene, siamo contenti, è un bel periodo adesso perché, ho già detto ai ragazzi, è finita la prima fase, è complicata, dall'inizio sapevamo, la regular season è stata una... abbiamo dovuto gestire tante sofferenze per riuscire a conquistare questa salvezza sul campo, adesso avevamo due settimane di tempo per preparare questa partita, che è un po' un premio per i ragazzi secondo me, vogliamo giocarcela fino in fondo, c'è un buon clima, stiamo lavorando tanto, vedremo. Per quanto riguarda i giocatori è arrivato Tushen o Palleggiatore, ma vogliamo anche sapere Soji come sta effettuando il suo percorso di recupero? Ma, allora, abbiamo inserito in queste due settimane, diciamo, il nuovo Palleggiatore, si è inserito veramente velocemente, sia dal punto di vista relazionale con la squadra, sia dal punto di vista tecnico e anche, insomma, nel modo in cui vogliamo giocare, vogliamo far giocare questa squadra. Soji sta veramente facendo salti in avanti da gigante, diciamo, durante il recupero, questo recupero, sta cercando di ridurre molto i tempi, sta già dando una mano alla squadra, sta già battendo, sta già facendo diverse situazioni per dare una mano alla squadra, dal punto di vista fisico sta recuperando più velocemente di quanto pensavamo e quindi siamo contenti. Ultimissima battuta su Piacenza, cos'è che bisogna temere di più, sapendo comunque che è una squadra che è forte in tutti i reparti? Ma, non temere, non dobbiamo temere niente, nel senso sappiamo perfettamente il livello di questa squadra, sappiamo il livello dei campioni che forma questa squadra, ci abbiamo già giocato contro diverse volte, sappiamo che in qualsiasi momento uno o più dei campioni di Piacenza può comunque fare la differenza, non dobbiamo avere timori, secondo me dobbiamo fare come abbiamo fatto tutto l'anno, siamo abituati a farlo, dobbiamo giocare la nostra partita, spingere molto, aggredire molto dal servizio in poi e poi insomma i conti li facciamo alla fine.